Progettualità, interventi di sistema, concertazioni e alleanze per lo sviluppo del territorio da uno, la CISL propone la strada della collaborazione. C'è un margine di povertà ancora molto alta nel nostro paese e quindi necessariamente dobbiamo mettere tutti insieme per creare anche politiche di inclusione, cercare di eliminare discriminazioni, disuguaglianze, quindi pensare a uno sviluppo sociale ancorché economico, perché secondo me vanno di pari passo. Siamo partiti ormai da un bel po' di tempo a provare a discutere con il territorio, a confrontarci, ma è ovvio lo dobbiamo fare con chi è presente sul territorio, con il livello regionale, territoriale e questa mattina anche questo modo di discutere ma soprattutto di intercettare quelle che possono essere soluzioni per il territorio o quantomeno noi andiamo a proporre anche alcune ricette dal nostro punto di vista che possono funzionare. Il focus proposto a Manfredonia punta su temi chiave, agroalimentare, turismo e formazione, partendo dal potenziamento infrastrutturale. È fondamentale sviluppare l'aeroporto di Foggia con dei voli internazionali perché purtroppo se non sei raggiungibile non sei vendibile. Di lì quello è il primo passo per poter costruire tutta una serie di servizi complementari allo sviluppo del turismo e quindi dimenticare soltanto la stagionalità, poter arrivare verso un'annualità o una semi-annualità che porta soltanto sviluppo a tutto il territorio. Abbiamo diversi nodi stradali su cui si sta investendo, dal raddoppio della Statale 16, è partito il cantiere solo qualche giorno fa, la Foggia San Severo, agli investimenti sulla strada Scorrimento Veloce del Gargano, alla Regionale 1 su cui c'è un altro investimento importante. Tutto il tema che ha a che fare con il porto di Manfredonia, ci sono 80 più 40, 120 milioni di euro sui dragaggio.